Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Voglio proporti un format un po' diverso. Voglio, infatti, parlarti di otto consigli scientifici per memorizzare in modo efficace e questi consigli sono ripresi da un sito, il sito dell'università, un'università americana, la St. Augustine, e quello che voglio fare è cercare di fare una forma di reaction, magari non classica come si trova già su YouTube, però cercare di applicare quel format e commentare insieme un classico tipo di informazione che si può trovare su internet, quindi magari se ti è capitato di esplorare un po' sul web e cercare di capire qualcosa in più in merito a come si studia, come si apprende, spesso ci si imbatte in informazioni che sono soltanto opinioni, niente di basato e quindi niente di formale e soprattutto di mostrato, invece certe volte possiamo trovare informazioni molto più efficaci, molto più utili e soprattutto con una base scientifica rilevante. Quindi oggi facciamo questo e partiamo subito col primo consiglio. E in inglese, non ci interessa molto tradurre nello specifico, andiamo a prendere l'informazione principale, poi ti lascio in descrizione il link da cui ho preso appunto queste immagini se vuoi andare a magari leggere in modo più dettagliato, ma questo è il sunto di questi otto consigli. Allora, il primo consiglio che ci dà la St. Austin, l'università americana, è di organizzare le informazioni, cioè di mettere i termini, le idee, i numeri, in gruppi che sono legati da una certa tipologia di connessione, potremmo dire. E infatti ci fa un esempio, e questo è particolarmente utile, particolarmente vero, e ti faccio un esempio magari un po' più concreto. Come vedi, in basso ti dice, utilizza il medio del chunking. Un chunk è un gruppo di informazioni riunite, gruppetti potremmo dire, e infatti ti dice di provare, per esempio, a memorizzare questa serie di numeri, 8, 6, 7, 2, 0, 4, 8, 7, 5, in piccoli gruppi. Quindi 8, 7, 6, 20, 48, 75. Se fai attenzione, questo è molto più facile da ricordare, lo noterai sia per quello che trovi in TV, molto spesso i numeri sono forniti proprio a chunking, a gruppi, non dicono mai un numero singolarmente l'uno dopo l'altro in serie, ma sempre i numeri, i classici numeri verdi con 800, eccetera, eccetera. Quindi questo è sicuramente un modo ottimo per memorizzare, a partire dall'organizzare le informazioni. Numero 2, creare delle associazioni. Quindi creare associazioni tra item, quindi tra elementi, che non sono collegati tra loro, aiuta la tua mente, come dice il cervello, comunque in realtà la mente, a richiamare le informazioni, a ricordare meglio. E l'esempio che ci viene posto, in questo caso, riguarda questo signore, il Mr. Baker, a cui dobbiamo associare non solo il viso, ma quelle caratteristiche che ci aiutano a ricordare il nome stesso, quindi sostanzialmente un pasticcere, e quindi abbiamo il cappello classico, il mattarello, e il classico grembiule che viene utilizzato. Quindi anche in questo caso, unire non solo le informazioni in generale, ma attraverso un senso, un significato, perché queste sono classiche cose che fanno riconoscere questo tipo di mestiere, ci aiuta molto, e in questo caso ci dice anche di aggiungere, per esempio, qualcosa come un colore, quindi classificare anche attraverso un buona forma di stimolazione visiva. Questo secondo aspetto, creare le associazioni, e aggiungo, arricchire il più possibile attraverso dei significati, è sicuramente un metodo attraverso cui possiamo ricordare, in generale, memorizzare in modo molto più efficace. Vediamo il terzo aspetto, utilizzare degli elementi visivi. Ovviamente, qua ci dice utilizzare grafici e foto, può aiutare a solidificare la memoria, visto che le informazioni visive sono elaborate in modo molto più rapido rispetto alle parole. Questo è assolutamente vero, quindi è vero che gli aspetti visivi ci aiutano, basta pensare a quante mappe concettuali facciamo, mappe mentali, anche il semplice modo in cui funzionano le tecniche di memoria, quindi le mnemotecniche. La cosa importante però da considerare è che quando ci troviamo in un esame, non dobbiamo soltanto fare dei grafici, ma dobbiamo anche riuscire a riportare a parole. Quindi è vero, è fondamentale gestire l'informazione sotto forma visiva, ma non dimentichiamo di riuscire a convertire in modo fedele, in modo pratico e concreto, le informazioni anche per quanto riguarda l'aspetto verbale, quindi riuscire a verbalizzare quello che sappiamo già da un punto di vista visivo. Quindi sono molto d'accordo con questo piccolo accorgimento anche con il terzo consiglio dell'Università di St. Augustine. Ora, il quattro riguarda il creare delle mnemonics, quindi creare e utilizzare delle rine, degli acronimi e degli acrostici. Allora, la cosa importante in questo caso, il mnemonics non si intende normalmente la mnemotecnica, come potremmo dire, come spesso abbiamo utilizzato nel canale, ma si riferisce a dei modi in cui le informazioni possono essere organizzate per poterle ricordare in modo più facile, in modo più semplice. Quindi questo sì ci può aiutare, ti dico però che non è una delle tecniche migliori. L'acronimo è un modo molto classico attraverso cui possiamo ricordare le informazioni, però non è tra i più potenti. Quindi forse questo del creare mnemonics non è proprio uno di quelli che ti consiglio in questa lista di otto. Ovviamente non è da scartare, ma diciamo subito che non è il migliore. Il quinto punto è di scrivere. Quindi scrivere a mano ci forza a fare un po' un riassunto delle informazioni e quindi migliorando la comprensione. Anche in questo sono in buona parte d'accordo. In realtà non è solo scrivere a mano che ti permette di comprendere le informazioni. Ovviamente trasformare a livello linguistico quelle che poi sono le informazioni che hai in mente possono presentarsi in modo un po' confuso. Ovviamente se le scrivi, e quindi devi creare un senso per costruire la frase e in generale tutto il discorso, ovviamente ti può aiutare a stimolare l'aspetto della comprensione. Quindi sì, sono d'accordo. È molto importante scrivere. Ti consiglio sempre di scrivere a mano, però ci sono anche moltissimi software che ti permettono per esempio di fare delle mappe. L'abbiamo visto con Xmind. Ti permettono di fare delle mappe in modo molto rapido. Quindi va benissimo anche quello. Però scrivere a mano è sempre una tradizione che dovremmo portare avanti. Quindi sono d'accordo anche con questo. meno per quello che riguarda l'aspetto della comprensione. La comprensione è qualcosa di più ampio, non è solo scrivere a mano che ci permette di farlo. Il sesto dice say it out loud. Quindi parlare e ascoltare se stessi mentre magari riportiamo a voce alta le informazioni ci aiuta a ricordare. Questo sono assolutamente d'accordo. Non solo per quello che riguarda il ripetere a voce alta. Quindi ti sconsiglio di ripetere come vedo moltissimo fare alcuni studenti e alcune studentesse quasi bisbigliando o ripetere a mente perché devi essere in grado di esporre in grado anche di parlare in modo chiaro e articolare il linguaggio a mente e realmente a voce alta. Non sono assolutamente la stessa cosa. Basta parlare con qualunque studente di linguistica ti dirà che è esattamente così. inoltre aggiungo a quello che suggerisce l'università americana che dovresti anche leggere a voce alta anche se perdi più tempo anche se non ti piace la tua voce anche se magari non leggi benissimo come potrebbe leggere magari un doppiatore però la cosa fondamentale è allenare non solo la produzione ma anche l'ascolto della tua stessa voce e puoi essere un giudice più severo perché se ascolti in modo in cui formuli magari le risposte alle domande di conseguenza sei anche più bravo o più brava a capire dove sbagli. Vediamo il penultimo engage in active recall ecco qui ci siamo questo è uno degli argomenti che più preferiamo in assoluto ovviamente l'active recall e qui diciamo sottolinea l'aspetto del testing effect quindi fare dei quiz a se stessi è un modo tra i più efficaci non solo all'università in questione di questo video ma anche altre volte ti ho portato degli esempi pratici della scientificità dell'active recall e soprattutto dell'efficacia del testing effect quindi assolutamente non perdo molto tempo perché ne abbiamo parlato tantissime volte di questo argomento su questo forse sono uno dei punti in cui mi trovo più d'accordo anche se ovviamente sono d'accordo anche con gli altri che abbiamo visto finora e partiamo all'ultimo quindi rehearse but take breaks questa è una cosa che ho detto più volte soprattutto quando abbiamo parlato della pianificazione quindi quando pianifichi pianifichi per esempio la giornata devi prenderti delle pause non ha senso studiare tre ore consecutivamente perché arrivato a un certo punto dopo venti minuti mezz'ora un'ora per chi ce la fa improvvisamente il livello di attenzione e concentrazione tende a calare inevitabilmente è fisiologico non è un problema non c'è vergogna è il modo in cui la mente funziona ha bisogno di pause e questo è fondamentale non solo per andare bene a breve termine ma soprattutto per riuscire ad ottenere degli ottimi risultati anche a lungo termine che è veramente qualcosa da considerare quindi questi sono gli otto consigli che troviamo in questo sito ti ripeto ti lascio il link in descrizione se vuoi andare a approfondire perché in ogni caso è veramente fatto bene anche questi disegni fatti tutti in tema sicuramente ti possono fornire degli spunti ottimi è ottimo è il tipo di approccio di questa università nell'articolo che ha riportato perché sono effettivamente delle tecniche efficaci ed è importante distinguere queste da tantissime altre fonti e ce ne sono veramente tante che si vendono come qualcuno che può aiutarti a capire come funziona la mente tutto però in realtà le stupidaggini sono veramente veramente tante quindi dobbiamo essere in grado di sviluppare quell'occhio critico che ci permette di prendere le distanze e dire magari è vero quello che dicono magari stanno dicendo soltanto delle stupidaggini quindi spero che ti sia piaciuto questo format magari fammi sapere se vuoi che faccia una forma di reaction anche ad altri siti o magari altri contenuti per cui vorresti un mio commento ovviamente uno spunto per poterne approfondire insieme quello di cui parlano e poi magari quindi creare altri video in merito a questo per quello che riguarda il video di oggi è finito qui quindi ti ringrazio come sempre per l'attenzione che mi dedichi ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani per l'attenzione